Cosenza Pisa 1-0 ragazzi, sorriso amaro, sorriso amaro per questo post partita, mi aspettavo che il Pisa poi potesse uscire dal Marulla almeno con un punto, se si va a guardare comunque la partita per me un pareggio sarebbe stato meritato, però complimentoni, complimentoni al Cosenza per quello che sta facendo, uno spirito di applicazione e di sacrificio, propensione al sacrificio e all'aiuto uno dell'altro, veramente straordinario e un collettivo che sta facendo qualcosa di straordinario anche quest'anno, la salvezza diretta per me sarebbe meritatissima a questo punto per una squadra che è inferiore a tante altre per mezzi, per proprio un discorso tecnico, però complimenti a loro, per me si devono salvare a questo punto ragazzi il Pisa, il Pisa mi aspettava almeno un pareggio, ora bisogna risettare testa alle prossime partite perché è di fondamentale importanza centrare i playoff, quest'anno sono alla portata, per me la rosa è molto molto importante, questo è un inciampo doloroso ma che però ragazzi non può essere decisivo secondo me